ma guardalo appena arrivato è già fa come se fosse il re del pollaio buongiorno sì sì signora signora non sono una signora sono una gallina e semmai sono signorina beh allora buongiorno signorina gallina lasciamo perdere ricorda le cose non sono sempre come sembrano per conoscerle davvero bisogna guardarle bene guarda leno il piccoletto le hanno rifatto il becco con questo becco sembri proprio un supereroe a volte abbiamo paura di mostrare quello che siamo ma è proprio quello che siamo a renderci unici a a a Grazie a tutti.